Il nostro intento è semplicemente quello di dare un supporto alle piccole e medie imprese tipicamente locali che in questo momento magari hanno bisogno di conoscere determinati tipi di coperture, avere una consulenza adeguata, quindi non un prodotto che comprano e magari in un certo senso potrebbero non conoscere bene o potrebbe comunque il prodotto non soddisfare le loro esigenze. Willis per poter supportare il mercato delle piccole e medie imprese ha deciso di istituire un network, ha affiliato 25 broker ad oggi a livello nazionale fra i quali annoveriamo appunto ANG che è il broker locale che opera qui in Abruzzo e anche in Marche Molise, quindi combinando le competenze del broker locale con le competenze del broker globale riusciamo a dare sul territorio un servizio più completo. Cuscito è un vestito assicurativo su misura per ogni esigenza sia di qualità di lavoro che viene svolto quindi del rischio possibile per quel tipo di lavoro sia per dimensione dell'attività o per volume di affari del professionista. Ogni nostro prodotto è impostato con degli accordi appunto che facilitano l'accesso al mercato assicurativo con procedure proprio semplificate e con coperture con testi semistandardizzati che poi possono essere adeguati alla singola azienda.